Su TikTok sta spopolando il Quick Talk, che è un hashtag generico che raccoglie tutte quelle esperienze di persone che si lasciano qualcosa alle spalle, in alcuni casi il vizio del fumo, in altri casi qualsiasi altra esperienza considerata per loro nociva. Da qualche tempo però si sta popolando di video caricati da persone che lasciano il lavoro e quindi registrano il momento in cui comunicano la propria decisione in azienda oppure inviano la mail di dimissioni e a seguire si lasciano andare in un tripudio di emotività, c'è chi balla, c'è chi piange e c'è chi si sfoga contro il datore di lavoro. Praticamente va bene tutto, purché sia eclatante, teatrale ed estremo ai massimi livelli. Ci sono quindi un paio di cose che vorrei dirvi in proposito, la prima è da imprenditore nel settore digitale, la seconda è da imprenditore e basta. Dal primo punto di vista è importante che sappiate che molti di questi video non sono reali. TikTok e i social media non mostrano ciò che realmente è, ma ciò che chi crea quel contenuto vuole farci credere. Dietro questi video quindi ci sono spesso delle finte dimissioni che vengono architettate ad hoc semplicemente per cavalcare un trend, occhio quindi a lasciarsi trasportare da questi fenomeni a chiappa like e soprattutto a non cadere nella trappola dei fuffaguru che un minuto dopo verranno a vendervi qualche videocorso sul mindset, l'indipendenza finanziaria e altre fesserie del genere con la promessa di facili guadagni, ovviamente senza lavorare. Dal secondo punto di vista abbiate molta cura di non emulare questi comportamenti, perché anche il modo in cui ci si dimette costituisce un tassello della propria professionalità, perché svela in maniera molto lampante di che pasta si è fatti e quindi anche quanto si è corretti e capaci di rispetto, e lo è soprattutto in un momento in cui non si ha più nulla da perdere. E siccome il web non dimentica, state lasciando in quel momento un messaggio ai prossimi datori di lavoro, quando andranno a raccogliere delle informazioni su di voi in seguito alla vostra candidatura, perché lo faranno, incapperanno in quel video e molto probabilmente, anche comprensibilmente, sceglieranno di non assumervi nella propria azienda. Insomma, c'è in gioco la vostra reputazione professionale e forse non mi pare proprio il caso di bruciarla per l'ebbrezza di un video virale.